la prima neve amici ieri sera stanotte la prima neve poco è non siamo sul cervino è assolutamente però ieri sera era meno due meno uno e poi verso le otto sette e mezza ha cominciato a scendere la neve è un minimo imbiancato chiaramente poco fortunatamente perché la neve bellissima ma quando cade solo nei campi nei boschi e non sulle strade perché si deve muovere chiaro che gli animali parte le ocche stanno dentro che non hanno nulla da da becchettare o da mangiare o da quant'altro e noi quanto fa freddo perché adesso c'è zero gradi nuvoloso ma non nevica più da un oretta e però sta tutto il giorno meno 2 meno uno zero ma non è mai salito sopra zero da ieri mezzogiorno fino adesso quindi in casa la stufa si accende e si sta benissimo dopo avervi fatto vedere fuori quella poca neve che è sesa però è sese di molto anche le temperature quindi fa freddo adesso accendiamo con più regolarità la casa e noi voi lo sapete abbiamo un riscaldamento misto a legno e metano più le più scaldiamo legna che preferiamo e meno metano consumiamo ecco adesso vi faccio rivedere perché vedo che una cosa che interessa molti come come si dovrebbe accendere il cammino e le stufe e gli stufoni prima di tutto voi vedete non è la classica catasta che si fa normalmente a forma di di tipi di tenda indiana no ma invece è una catasta che si fa a piani sotto la legna un po' più grossa sopra quell'altra un po' più piccolina e poi l'accendifuoco si accende in mezzo aria tirata per qualche minuto prende bene il tutto e poi si può chiudere l'aria qual è il trucco sostanzialmente che mette che lasciando questi ampi spazi tra un ciocco di legna e l'altra l'aria circola per bene e quindi il fuoco prende bene si accende bene ovviamente non l'ho detto ma la legna deve essere perfettamente asciutta e questo è ovvio non può essere una legna verde quindi non è possibile ecco riprendiamo adesso con l'aumento dell'accensione è un classico accendifuoco allora il trucco di questo sistema qual è è che il fuoco parte la combustione parte dall'altra va verso il basso adesso l'accendifuoco ovviamente e sopra la fiamma va dal basso verso l'altro ma poi appena attacchierà sulla legna voi vedrete che il fuoco si girerà verso il basso e quindi attaccherà gli altri legni condizioni precondizioni la legna deve essere deve essere secca e la canna fumaria deve essere funzionante perché se esiste se una dei due delle due precondizioni non funziona chiaramente il tutto il tutto salta ecco il fuoco sta andando giù verso il basso vedete e presto attaccherà io uso questo termine brucerà a inizialmente i legni che sono sotto non è necessario ripeto mettere carta anzi perché la carta quasi sempre insomma ti da delle dei problemi e non deve esserci fumo perché se c'è fumo può essere anche pericoloso perché mettiamoci il cuore in pace anche la legna è inquinante perché contiene polveri sottili tra cui anche il pm 10 che comunque non è il massimo della libidine e quindi non è necessario assolutamente mettere mettere il della carta per farla partire semplicemente utile necessario indispensabile avere un accendifuoco di quelli ecologici e tutto funzionerà voi vedete qui c'è un accendifuoco non ho messo carta non ho messo nulla ho messo solo un pezzo di corteccia della legna distanziata l'uno dall'altra a piani e adesso sta bruciando già la legna sotto prima che i legnetti piccolini stanno già bruciando questi ciocchi qua vedete quelli medi che quelli daranno dal basso poi verso l'altro chiaramente quindi io ho messo l'accendifuoco sopra l'accendifuoco ha bruciato quel pezzo di corteccia che avevo messo lì è esseso giù è attaccato subito uso questo termine ha attaccato a bruciare subito i ciocchi grandi che a loro volta bruceranno quelli sopra vedete che fumo non ce n'è però per maggior sicurezza io chiudo il tutto ecco fatto attiro l'aria grazie 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 grazie